Gesù Cristo è reale, Egli non è una statua di legno, di pietra, di metallo come hanno lì dentro, in quei falsi templi della religione pagana falsa, piena di idoli, di Roma e di papi corrotti, ma Gesù Cristo è la vita, è la luce, è la verità, Gesù Cristo è vivente, Lui non si trova in una statua di legno, non adorare più davanti alle statue, gli idolatri non entreranno nel regno dei centri, abbandona l'idolatria, l'abbandona, l'iniquità, la menzogna, il furto, l'adulterio, l'omosessualità, il male, il vizio, e convertiti a Cristo e guadagnerai la tua anima, Cristo vive!